Prosegue la nostra rubrica Conosciamo i consiglieri comunali di Giuliano. Oggi è la volta di Laura Poziello, consigliere di maggioranza della civica Poziello Sindaco. Laura Poziello, ho 36 anni, sono un avvocato penalista specializzata in diritto dell'Unione Europea in modo particolare per tutto ciò che riguarda la tutela in generale, soprattutto per le donne e per le vittime delle violenze di genere. Esperienza politica? Questa è la mia prima esperienza politica. Ho scelto di candidarmi perché sin dal primo giorno ho sposato il progetto di Antonio Poziello Sindaco, credo in Antonio Poziello Sindaco, credo in Antonio e credo in tutte le nostre idee, nei nostri progetti. Nel corso della consigliatura Poziello promette di battersi per trasparenza e politiche sociali. Sicuramente grande trasparenza amministrativa, sicuramente politiche sociali e politiche occupazionali. Se dovesse poi dare un suggerimento al Sindaco sarebbe quello di governare in sintonia sia con la maggioranza che con l'opposizione. Diciamo che non ne ha bisogno assolutamente, però trovare una grande coalizione, ha sicuramente una grande coalizione, trovare una cooperazione, un giusto equilibrio tra maggioranza e opposizione. Infine ecco il parere di Poziello sulla giunta appena nominata. D'accordissimo su questa giunta appena nominata, persone altamente professionali, competenti, con grandi capacità sono certa di questo.